Buonasera a tutti, capisco il momento, però ho aspettato tanto proprio per far freddare quello che secondo me è sempre sbagliato in temi così delicati, affrontare a caldo le cose, perciò ho aspettato, avrei voluto aspettare ancora di più, però visto che saliva sempre di più l'emozione, soprattutto in città, era doveroso e giusto prendere in mano questo tipo di situazione. Volevo fare prima una piccola prefazione in riferimento a questa conferenza stampa, volevo spiegare quello che era un aspetto di natura personale che per me in questo momento da quando sono arrivato al Parma, che arrivavo in una società che risaliva dalla serie B e che veniva da quello che ha detto giustamente il Presidente, da un percorso abbastanza tortuoso che era quello di un crack, il crack più importante, tra i più importanti europei e questo percorso ha fatto sì di arrivare ad un risultato importante come l'Europa League. Penso che professionalmente per me dopo le dimissioni del Presidente sarebbe stato molto semplice, dopo aver dimostrato in questi cinque anni non il mio valore ma grazie a tutti, a tutti i miei collaboratori, grazie all'allenatore, allo staff, ai vari allenatori, ai vari staff e soprattutto ai calciatori, potevo tranquillamente se volevo agire da professionista e dire è stato bello, vi saluto e arrivederci. Questo non è nella mia indole, non lo è perché penso che in questo momento sia giusto prendersi delle responsabilità e prendersi delle responsabilità significa agire, significa ringraziare a tutti i livelli tutte quelle realtà che fanno capo alle istituzioni di Parma, che fanno capo a tutti i tifosi per quello che hanno fatto nei riguardi del Presidente in questo momento. Però una cosa certa è dettata chiaramente dallo sconforto di una decisione così importante, io lo dico con forza, il Parma Calcio c'è perché continua e continuerà indipendentemente dalle decisioni che ci sono state riservate e continuerà ad operare nell'interesse dei tifosi e della proprietà. Il Parma è giusto che riconosca e rispetti le decisioni della FIGC e dell'Alta Corte e rispetterà sempre fin quando farà questo tipo di attività, che è quella sportiva, quelle che sono le risposte da parte della giustizia sportiva. Nonostante la grande amarezza non c'è stata nessuna reazione né violenta o rispettosa da parte nostra, da parte dei tifosi e di tutta la città, perché io ritengo che questa realtà sia contraddistinta perché è fatta di persone per bene, che interpretano chiaramente lo sport e il calcio in una maniera come deve essere interpretato. È chiaro che io rispetto le decisioni della giustizia sportiva ma non le condivido assolutamente, tant'è vero proprio perché non le condivido sono assolutamente convinto delle nostre buone ragioni, non lasceremo niente di intentato, abbiamo infatti costituito un team di legali che sta valutando l'opportunità di presentare ricorso al tasso di Rosanna, perché pensiamo e siamo certi di questo che l'UEFA vorrà essere coerente con quello che ci ha scritto l'Alta Corte. La nostra realtà è anche quella che nonostante le amarezze è quella che ha determinato un raggiungimento sul campo e ha messo nella condizione la nostra nazionale di avere tre calciatori e che daranno il loro contributo a Prandelli. Altro aspetto importante è che il Parma, una società sana, non ha debiti cofisco o enti presidenziali. Che questo sia chiaro, perché io rappresento una società sana detenuta da un gruppo azionario sano, ha un patrimonio invidiabile e infrastrutturale e di calciatori. A voglia che ci dicono che facciamo il commercio del bestiame, però abbiamo dato dieci calciatori alle nazionali per andare in pre-convocazione e ora ce ne abbiamo sei? Bene, potrebbe non piacere questo, ai più, perché chiaramente dà fastidio. Io però mi prendo le cose che vengono positive. Abbiamo ristrutturato un centro che quando era arrivato a Pichirardi, era tutto in uno stato assolutamente di decadenza, basta che vi fate in giro per quello che è diventato Collecchio. Abbiamo fatto un passaggio da quello che c'era, patrimonio calciatori, che tutti se lo mettano in testa, a quello che abbiamo. Abbiamo quasi raggiunto storicamente il numero di calciatori che potevano andare a fare nazionali, con delle potenzialità, permettetemelo di dire con tanta onestà che non sono quelle di chi ha fatto un crack. Perciò con forza, dopo aver detto questo, io posso dire con forza che questa sarà una società che senza problemi, senza dubbi mi caricherò sulle spalle. Primo per dare una continuità aziendale, perché ho sentito tanta dietrologia in questi quattro giorni. Secondo perché la mia missione, penso che sia la missione di tutti quanti, sarà quella con l'azione di far rivedere quello che è il pensiero del nostro Presidente. Se io questo tipo di obiettivo lo faccio insieme con tutta la realtà di Parma, sono convinto di ottenere il risultato. Certo che so da solo, non posso e non ritengo corretto convincere una persona, perché per convincere una persona bisogna pensarla in modo diverso. Io non la penso in modo diverso dal Presidente, faccio fatica a convincerlo. Però c'è una differenza sostanziale che è quella che ho sentito che si coglie la palla al valso. Il calcio si vive per tanti motivi, si vive per professionalità, che è quella che faccio io, sono professionista, per quello che fanno gli altri dirigenti, per quello che fanno allenatori, staff tecnico, giocatori, e quella è una professionalità, lo facciamo di mestiere. Perciò non è che possiamo fare una scelta diversa da quello che è la realtà, bisogna che lavoriamo e facciamo quello. Quella dei tifosi, non è giusto e corretto dire che è un mestiere, perché non è un mestiere, è una trasmissione di emozioni. I tifosi non possono dire che mi dimetto da fare il tifoso del Parma. Il Presidente sì, perché il Presidente nel momento in cui immette risorse e poi non c'è più quell'emozione, è corretto che abbia una reazione e deve essere rispettata questa reazione, perché se c'è questa reazione significa che ha dentro un qualcosa, che è tutt'altro che l'interesse. Perciò nel momento in cui, come tipo di situazione, viene a modificarsi questa trasmissione di emozioni, è normale che ci sia una reazione di questo tipo. Quale migliore soluzione? Non quella che ringraziamo dei messaggini, lettere ai giornali, lettere aperte, tutto grazie e ringrazio anche per conto suo, ma adesso è giunto il momento che questa comunità passi all'azione. E l'azione è quella, molto semplice. Se noi quest'anno abbiamo dimostrato in un certo qual modo, quello che è stata la serietà di una tifoseria di un certo tipo, non è che serve di andare sotto casa del Presidente, bisogna dimostrare che questa comunità faccia quello che deve fare. Una dimostrazione riferita a tante cose, tanto per iniziare, avevamo 9.000 abbonati e dobbiamo cercare di arrivare a 15, a 20.000, perché noi contro questo tipo di situazioni con grande serenità, ma con grande determinazione rispondiamo. Ma non che rispondiamo a loro, ma andiamo un messaggio a chi di dovere che era nel giusto a detenere la proprietà del Parma e perciò deve ritornare a rappresentare queste persone. Perché quando sento dire tradimento, è una roba grave il tradimento. C'è una persona che immette 30 milioni di euro in questi anni nel Parma, poi è arrabbiato per una decisione e se prende e fa un passo indietro tradisce. Cerchiamo di rispettare gli esseri umani, cerchiamo di essere tutti compatti, con questo dico anche la stampa, perché non c'è più tempo di dire l'avevo detto, sono il giusto o sono lo sbagliato. Qui il tempo è assolutamente breve e perciò prima di scrivere o di diffondere delle notizie false come il Parma è uno stato di fallimento, il Parma è solido e c'è, il Parma non si svende, il Parma si vende casomai. I giocatori del Parma, che ho sentito che si devono andare a sviente, devono passare sopra il mio corpo, non si svendono. Che lo sappiano bene, questa non diventa una terra di conquista, questa diventa una continuità, ma ci vuole la forza di tutta la gente. Da questo punto di vista io volevo ringraziare, visto che sono presenti le autorità, il Comune, perché ho avuto un incontro col Sindaco, con gli assessori e io ritengo che questo è un passaggio importante, perciò la solidarietà, il starci vicino e starmi vicino da parte loro deve essere un messaggio e loro l'hanno già fatto. Il star vicino da parte di tutti i gruppi imprenditoriali per quello che possono fare e soprattutto, ritengo questo importante, i tifosi, perché il numero di tifosi diventa fondamentale per dare una dimostrazione che questa è una scelta fatta di cuore e deve ritornare alla ragione. Permettetemi di ringraziare pure tutti i calciatori e l'allenatore e tutto il resto perché io ho informato loro di questa novità e poi da loro ho ricevuto dei messaggi veramente forti e penso che sia giusto ringraziarli per quello che hanno fatto in campo e per quello che vorranno fare nei riguardi del Parma. Il Parma non coglie la palla al balzo per vendere i calciatori, noi siamo stati sempre chiari perché nel momento in cui c'è un dislivello, c'è un divario tra noi e le altre realtà, è necessario, indispensabile per colmare questo divario fare delle operazioni di mercato. Adesso mi devono rispondere con rispetto, non voglio parlare male, perché il Torino va in Europa League e vende immobile e il Parma deve fare il salto, deve fare il salto della guaglia, perché? Perché giustamente il Torino come il Parma come gli altri è obbligato a fare questo e noi abbiamo sempre lottato in questi anni per mantenere un trend positivo che abbiamo avuto in questi cinque anni pur facendo delle plusvalenze corrette e rinforzandoci anno dopo anno e questo ve lo posso garantire, continueremo a farlo. Io non ho altro da aggiungere se non di mettermi a disposizione. Grazie. Io vorrei dire una cosa, che mi aveva solitato in un partito, la distinzione del prossimo anno campionato? A posto, noi il 30 maggio abbiamo pagato altri 10 milioni, un giorno dopo la decisione negativa da parte della negazione della licenza UEFA, il 25 giugno rispetteremo l'ultima rata di pagamento, la squadra sarà non solo iscritta ma farà il campionato con grande dignità e per quello che gli competono. In ogni caso, anche se non vengono aiuti... In ogni caso, il discorso degli aiuti è un messaggio che ho mandato non perché ci servono delle risorse, è un messaggio che io vorrei portare e trasmettere al Presidente. Tutto qua. Io vorrei che questa comunità dimostrasse coi fatti al Presidente che la sua gente vuole che ritorni ad essere Presidente del Parma. E con questo voglio pure chiarire gli altri aspetti che poi tra la cosa mi sono dimenticato, colgo l'occasione per la domanda che ho mai fatto. Il gruppo azionario del Parma è compatto per la scelta del Presidente, non c'è nessuna voglia di scalata, ho sentito che NRGT viene perché deve fare la scalata. NRGT e tutti gli altri soci sono solidali e compatti. Se si decide di vendere, ribadisco, non di svendere, il Parma sono tutti compatti ma nessun socio subentrerà al posto di Ghirardi. Di questo dovete starne tutti certi. Anche perché il sottoscritto, se arriva Lemiro o arriva qualcun altro e vuole comprare il Parma, vuole dare un'altra dimostrazione. Nel momento in cui arriva qualcuno, tutti si devono sentire tranquilli e rilassati perché Leonardo, nel momento in cui non c'è Ghirardi, non c'è più questo gruppo azionario, si mette da una parte, saluta a tutti e ringrazia. Perciò che non pensino che Leonardo sta qui a dispetto dei Santi, lo ribadisco, per me sarebbe stato professionalmente molto facile andarmene e io non lo faccio perché mi sento addosso un peso importante, il rispetto degli impegni e il rispetto di questa gente e non lo dico per retorica e lo farò quando sono tranquillo che tutto questo sarà finito, che Ghirardi rimonterà in sella. Buonasera, sono Andrea Tosi, la Gazzetta dello Sport. Buonasera. Ciao. Leonardo, le metto insieme tre o quattro domande a raffica ma sono una conseguente dell'altra, quindi la prima domanda è in quanto tempo pensa che il suo staff di legali scioglierà la riserva per fare il ricorso al TAS, posto che mi sembra che lo farete, probabilmente ci state pensando sopra ma l'orientamento di farlo, in quanto tempo vi aspettate che ci sarà una pronuncia, questo mi sembra corretto anche nei confronti del Torino, perché però vi motivi... Beh, di quello mi interessa poco. No, no, no. Scusa, mi interessa più il mio di principio, quello del Torino mi interessa poco. Vabbè, allora lasciamo per il Torino, in quanto tempo l'intende che... C'è un termine, sono dieci giorni. Poi finisco. Prego. Questa situazione, chiamiamo la sua reggenza, poiché il Presidente Ghirardi ha detto che in questo periodo l'ordinaria amministrazione, evidentemente anche la straordinaria, compete a lei e aspettando i 20.000 abbonati che possono convincere Ghirardi a tornare indietro, le chiedo, questa situazione di stand-by per una società di serie A importante come il Parma, per quanto tempo è tollerabile per avviare naturalmente... Allora, se è possibile una alla volta, poi me ne fa un'altra... Una alla volta. Allora, la prima ho già risposto dieci giorni, ci siamo affidati a un team di legali e perciò andremo per un qualcosa nostra e anche se il Presidente aveva esternato questa volontà di mollare anche questo tipo di discorso e io ritengo anche questo apprezzabile, capibile, per quanto mi riguarda io non voglio avere rimorsi e devo portare rispetto oltre ai tifosi, devo portare rispetto a me stesso. Siccome ritengo che è una sentenza ingiusta, vado fino all'ultima possibilità, che si chiami tasse, che si chiami TAR, che si chiami tutto, e questo però è una disamina che è giusto che la facciano chi è preposto a fare questo, siccome non abbiamo un legale, ne abbiamo più di uno, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso e se permetti, io troppe volte ho parlato e abbiamo parlato per dar vantaggio ad altri e gli altri camminino a prepararsi per andare in Europa League, perché è giusto, visto che gli hanno dato una decisione, che lo facciano, ma io agli altri non gli do più informazioni, stiamo valutando, siamo nel giusto se valutiamo, sicuro però è certo che il Parma non si ferma, perché l'ingiustizia non va bene, perciò questo che sia chiaro. Per la seconda domanda, ma non c'è un tempo ragionevole, perché il Presidente del Parma è Tommaso Ghirardi, la proprietà del Parma è Tommaso Ghirardi insieme ad un altro gruppo azionario, qui non è che sono andati via, in questo momento specifico lui ha detto mi ha pregato, io non ci ho pensato un attimo, perciò da questo punto di vista non c'è altro che lavorare e impegnarsi per fare le cose come le abbiamo fatte in questi cinque anni. Io sono fiducioso che se c'è un movimento totalitario noi siamo facilitati nel far ripensare Ghirardi, io sono fiducioso, ma nell'interregno non è che c'è qui, non bisogna portare questo tipo di scelta che ribadisco emotiva ad una scelta di una società che è costretta a vendere, ce ne so di esempi, anche non tanto lontani, perciò questa società non ha bisogno di vendere, questa società ha una continuità aziendale e questa società ha bisogno di far ritornare l'amore e l'emozione al proprio Presidente. Ma il gruppo azionario, io me lo sento tutto alle spalle, che mi protegge e che sicuramente tutelerà quello che farò io da qui in avanti. Mi auguro meno tempo possibile. Io ho proprio una domanda in mezzo, forse non mi... Eh, scusi, scusami. Cioè, dopo la decisione dello staff, dei legali, secondo lei quanto tempo si prenderà il tasso di Losanna per fare... Questo non lo posso sapere perché noi abbiamo dieci giorni per fare un ricorso, per annunciare il ricorso, poi dopo c'è un altro tempo per preparare le memorie e poi dopo vedremo il da farsi. Non c'è un tempo stabilito, che io sappia. Ma non è anche questo un problema nostro, eh? Cioè, con tutto il rispetto, il tempo che ci vorrà... No. È assolutamente impossibile perché Parma è un patrimonio da tutelare. Se dentro non c'erano più soldi per scriversi il campionato? No. E ribadisco ci sono già i soldi per scriversi il campionato. Ma no, ma intanto ci scriviamo il 25 giugno e poi andremo avanti. Più avanti. Noi non siamo compratori, la proprietà veramente si stanca e... La continuità aziendale dello ribadisco è garantita. Ci sarà da fare una revisione da un punto di vista di scelte, se la proprietà non vuole dare quel sostegno e la revisione viene fatta, come è giusto che sia. Ma noi abbiamo una continuità, abbiamo già un patrimonio importante che è di calciatori, abbiamo un patrimonio che è quello che ci siamo guadagnati sul campo, che è quello di aver conquistato una posizione importante che è la sesta posizione. Noi sappiamo, in parole povere, quanto incasseremo l'anno prossimo e sappiamo e dobbiamo lavorare su quello che dovranno essere uscite. Però problemi da questo punto di vista io non ne vedo. Sono assolutamente tranquillo. Poi se qualcuno li vuole cavalcare, che continui a cavalcarli. sennò non ci mettevo la faccia. No, mi chiede a te perché voglio sapere. No, ma tu fai bene. E se domani Girardi si stanca e tu hai tutti i soldi, te resti lì? Tu non ti preoccupare che non sarà così. Qualche domanda ai colleghi? Non sarà così. Stai tranquillo. Ma c'è la possibilità? Non c'è questa possibilità. Ghiardi non abbiamo, c'è l'essere. Ghiardi per stancarsi deve vendere. Perciò c'è qualcuno che compra, è giusto, l'ha detto, l'ha messa in disposizione. Se no c'è una continuità. Pietro scusa, è lecita la sensazione che in qualche modo si sia pagata la novità di un mercato che nessun altro ha fatto e che in qualche modo lo si sia fatto pagare questo alla società? E se sì, questa strategia continuerà ancora? E anche se no, si proseguirà ancora? Oppure è stata una bacchettata in qualche modo, ingiusta finché vuoi, ma l'hai avvertita anche tu così? Siamo davanti a un fatto che io non voglio parlare di dietrologia perché ci si contesta di far dietrologia nel momento che parla il Presidente. Poi dopo quando però si commenta si fa dietrologia. E allora, è la solita storia, quando si ascolta uno non può dire che c'ha un pensiero, quando si scrive però si può dire, ah l'ha fatto per questo, 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 senza avere nessun tipo di prova. Allora io voglio far ritornare sul tema. La sentenza dell'Alta Corte ti risulta che scrive la densità di calciatori, quello, ok. Addirittura scrive che è un'ingiustizia, che però non è competente, ma non mi voglio addentrare. Io ho la mia convenzione, l'ho esternata e sono solidale col Presidente. Però io che debba continuare a fare, a dire quello che ha già detto il Presidente? No, io ti ribadisco che la nostra strategia è una strategia sana, perché se no saremmo stati puniti. La dietrologia la fa qualcun altro, che gli disturba che il Parma, con investimenti dell'1-10, arriva davanti a altre squadre. E facciano la dietrologia, a me non mi interessa. Se io ho fatto qualche cosa in qualità di amministratore delegato, riferito alle leggi sportive, che non funziona, perché non vengono a dirmelo? Perché non viene nessuno? Significa che abbiamo fatto una strategia, poi se giusto o sbagliata, sarà una valutazione che faremo insieme tutti quelli che fanno parte del mio staff di natura sportiva e potremo ridimensionarla, potremo incentivarla. Qui si parla di 350 calciatori. Noi abbiamo ad oggi contrattizzati 150-160 calciatori. Sapete quante squadre stanno sotto a 100 calciatori? Pochissime. Però si deve parlare del Parma. E parliamo del Parma. Parliamo del Parma. Allora, il problema è molto semplice. Non è che c'è... non voglio vedere lo studio di qualcuno che viene a farmi punire perché c'è troppi giocatori. Poi partiamo pure dal presupposto. Seppure non funziona da un punto di vista tecnico, avremo dato da mangiare a tanti calciatori. Non è che abbiamo fatto tanto del male, no? Perché sembra che stiamo a far del male e abbiamo fatto contratti a calciatori e ci campano. Ok? Allora, partendo da questo, ribadisco. Sarà una valutazione che chiaramente, proprio per i motivi che anche ci invitano i tifosi per dar continuità, andremo a vedere, a verificare se è più il caso o se non è più il caso. È una valutazione. È chiaro che c'è da fare un ragionamento serio perché noi non vogliamo arrivare, come ci chiedono, al 30 del giugno. Noi vogliamo arrivare a lunga gittata nell'attesa che ritorni il nostro Presidente. E abbiamo le potenzialità per farlo con serenità. Stop. L'ultima cosa da parte mia riguarda l'allenatore perché il Presidente anche ieri ha detto Donadoni in stand by, ci dirà qualcosa, lui stesso si era dato una scadenza di 15 giorni alla fine della stagione. Queste novità, secondo te, a cosa possono portare? Tu come la vedi questo scenario? Ma posso portare e bisogna interpretare sempre quello che ha detto il Presidente. Il Presidente ha detto una cosa molto semplice, che è quello che ho detto in prefazione io. Cioè significa che praticamente il Presidente non è che vive con il calcio, fa vivere gli altri di calcio. Gli altri soggetti, le altre persone, vivono di calcio. E io, ripeto, viene sempre tutto interpretato. Il Presidente ha detto che ho timore dell'aspetto psicologico di alcuni calciatori e dell'allenatore perché hanno raggiunto questo obiettivo e non possono giocarsela. L'Europa League è diverso. Adesso bisogna vedere. Io non ho avuto risposte negative né dall'allenatore né dalla gran parte dei calciatori nel voler lasciare questo tipo di realtà. Io non ho queste. Però mi sono messo assolutamente a disposizione perché se devo condurre una battaglia ho bisogno di persone che stanno al fianco e sono convinti di vincere la battaglia. Non è che ci devono essere gli indecisi qui. E questo vale da Donadoni fino all'ultimo che può essere l'usciere di Collecchio. Fine. Chi parte oggi verso questo tipo di obiettivo deve sapere quello che lo aspetta. C'è una battaglia, una guerra vera. Noi dobbiamo trasformare con i tifosi e con i nostri calciatori se lottevamo in un certo modo questi giocatori lo sanno dobbiamo raddoppiare le forze perché dobbiamo dimostrare di essere più forti di non giustizia. Tanto c'è tempo, non è parte del treno. Volevo chiedere, arrivati a questo punto, che tipo di obiettivo potrà avere il Parma per il prossimo campionato? Lo stesso obiettivo che ho avuto in questi... No, no, ma è giusto, un attimo soltanto, un attimo. Allora, lo stesso obiettivo che ho avuto in questi cinque anni, lo stesso identico. Non siamo mai partiti per un obiettivo di vincere lo Scudetto, di andare al Champions League o di andare alla Europa League. Il mantenimento della categoria sarà il primo obiettivo. Se ci riusciamo in breve tempo potremo pensare al resto, se no lotteremo fino all'ultimo. Quello che abbiamo fatto in cinque anni. Niente di diverso. Le chiedo se la sua sensazione che una bella dimostrazione d'affetto dei tifosi e degli avonati in massa potrebbero indurre il Presidente Guerare a ritornare sui propri passi è più di una sensazione. Cioè lei ci vive vicino da molto tempo, quindi lo conosce personalmente. E se in funzione di questo credo che sia quantomeno opportuno aprire la campagna abbonamenti quanto prima e spiegare, penso, non è un compito mio ma suo, che questo è un atto di fede. Cioè che probabilmente chi si abbonerà nei prossimi venti giorni, un mese, un mese e mezzo, due mesi, lo fa senza sapere che squadra alla fine andrete a completare. Però penso che sia questo il senso. Cioè che lei chiede un atto di fede ai tifosi del Parma per convincere il Presidente. Mi pare di aver capito questo. Mi correga il senso. È tutto corretto, però le sensazioni contano zero, i fatti, ho detto prima, contano tanto. Io non posso avere nessuna sensazione, però i tifosi più di questo che possono fare per far pensare o far riflettere il Presidente, cioè che gli possiamo far farle, crociate, che gli facciamo fare. I tifosi possono solo dimostrare affetto attraverso una fiducia nei riguardi di questa società. I nostri tifosi si sono sempre abbonati senza sapere chi erano i nomi dei nostri calciatori. Noi abbiamo avuto mai delle impennate a secondo di chi andavamo ad acquistare. Abbiamo avuto sempre delle persone per bene che ci hanno dato fiducia prima ancora dell'allestimento delle squadre. Perciò non si chiede, non si modifica niente in confronto a quello che era prima. Io penso che sia un passaggio importante, mi auguro che possa far pensare il Presidente un gesto di questo tipo. Ho avuto un sostegno anche importante, per esempio, da parte dei soci. Ecco, su questo posso annunciare che NRGT è vicino a quello che sarà la campagna abbonamenti per stimolare ancora di più e per cercare di dare delle agevolazioni ai nostri tifosi. Stiamo studiando insieme, ma da prima del discorso della licenza UEFA, una tipologia o un meccanismo che possa permettere a più tifosi di potersi abbonare. È chiaro che faremo questo passo nel breve tempo, in termini di qualche giorno, per annunciare l'apertura della campagna abbonamenti, ma ci tengo a ribadire che non è che questo è indispensabile perché se solo uno fa due conti di quello che può essere l'indotto attraverso una campagna abbonamenti io penso che rapportato al costo di una stagione viene facile quanto sia importante. Non è che Ghirardi aspetta l'esito economico della campagna abbonamenti per poter dire ora ritorno, no, è l'effetto numerico che secondo me potrebbe influire. A me non me lo auguro. Io dico, io ho fatto il mio passo verso il Presidente e verso il gruppo azionario e ci metto la faccia, come sempre, e mi metto a disposizione. I tifosi possono fare solo questo, me lo auguro, ma capisco pure che ci sono delle difficoltà, non è che qualcuno viene qui, rifacciamo 9.000 abbonati e viene a rimproverare. Anzi, dobbiamo sempre ringraziare quelli che lo fanno. A questo? Scusa, scusami, stavo facendo... Io volevo prendere l'occasione della questione di sabato, abbiamo la festa dei boys, che vorremmo invitare a lei, che è il Presidente, che è anche lei, che è un Presidente? Vabbè, ma se vi decidete, mi mette anche un po', uno là o tutto e tutto. Io lo dirò, io lo dirò tranquillamente e grazie dell'invito, come sempre. Però tanto per noi, perché così diciamo che la tifosi arriva, comunque l'occasione di... Di dare una dimostrazione. Grazie, io lo dirò, comunque a disposizione. Grazie. Volevo tornare sul discorso della campagna abbonamento, abbiamo letto in questi giorni sulla Gazzetta di Parma che potrebbero esserci dei prezzi popolari, sommato diciamo così al fatto che mi piacerebbe quasi raddoppiare la presenza degli ultimi anni, effettivamente ci saranno dei ritocchi al ribasso dei prezzi... Ho appena detto, ho detto, poi quello che scrive la Gazzetta di Parma è una sensazione perché è cosciente che ci saranno delle iniziative, spiegheremo le iniziative tra qualche giorno, che ora io dico quello che sono le iniziative è assolutamente fuori luogo, con rispetto alla domanda che mi ha fatto. Io non ho niente, grazie della presenza a quanto numerosa, però dico per finire questo discorso tutti quelli che siete presenti qui cercate di fare opera di diffusione, di megafono, che il Parma c'è e smentite tutti quelli che dicono che il Parma è in crisi, almeno questa missione, perché noi abbiamo bisogno di fiducia. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie.